Ciao Giuseppi, ma è possibile che quando sei insieme con la tedesca non trovate un posto al chiuso dove nascondervi? Anche stavolta vi hanno visto tutti i satelliti del mondo. Ma che figura! Portami fuori a cena, potremmo andare al ristorante egiziano. No, no, il ristorante egiziano ha le sedi a forma di piramide. Non è una sensazione molto piacevole. Ormai le tue battute sono allo stesso livello delle prestazioni sessuali. La colpa è anche tua. Quando facciamo l'amore non solo servi soffitto, ma mi proponi anche i colori per ridipingerlo. Così almeno penso a un pennello grande. A volte per fare certe cose non servi un pennello grande. Basta un grande pennello. Poi non capisco perché nell'intimità vuoi sempre tenere la luce accesa. Perché altrimenti non mi accorgo che lo stiamo facendo. Ma con la luce accesa io ti vedo. E per me diventa impossibile farlo. Ti hai arguto, sei sottile. Da tutti i punti di vista. Facciamo pace per mezzo ad un rapporto completo. Cogliamo l'attimo. Sì, sì, facciamolo subito. Voglio frullare i tuoi ormoni col mio mini-pimmer. Va bene, facciamolo subito. Tolto il dente, tolto il dolore. Cambiamo posizione. Hai visto? Anche stasera sessualmente sono stato travolgente come un tornado. Più che come un tornado, sei stato come un temporale estivo. Dura poco, ma riesci a rovinarti la giornata. Ormai, quando facciamo l'amore, il momento più eccitante è quello in cui mi rivesto. Anche per me il momento migliore è quello in cui ti rivesti. Comunque, rifacciamolo un'altra volta, come se fossimo due italiani. Anzi, con impeto latino, come due napoletani. Hai visto? È stato veramente come essere a Napoli. Mi sono anche scettato. E poi, facendo l'amore con me ogni volta è come se fosse la prima volta. È vero. Non migliori mai.